Ormai i calendari, e è tempo di calendari con le donnine di tutti i tipi, sono entrati nell'immaginario e nella cultura italiana, ma Panoramita, tanto tanto tempo fa, parlava di queste immagini etere, di questa donna angelo poi ripresa negli annali, e ne parlava così di questi calendari, le grazie di venere presero come dimora gli occhi di Alda, le ride sulle labbra Cupido stesso, essa non piscia, o se piscia, piscia balsami, non caca, o se caca, alta cacavione. Grazie